Ciao ragazzi, qua dentro e benvenuti su Speedplay che è un gioco di calcio che mi sono innamorato diciamo Aspetta che metto la webcam Eccolo Attualmente è sempre questa cavolo di pubblicità Ok, grazie Ho detto una cosa a caso Ok, mini juegos, baby, ok play Andiamo nell'Italia Ok, siamo contro la England Però adesso io sono qui Ok, attenti Abbiamo cominciato Aiuto Aiuto, paura Aspettate che faccio così Ok Adesso stiamo ed è gol gol avevamo fatto subito gol il nostro primo gol dell'italia prendi la prendi la palla prendete questa cavolo di palla non ho manco toccato una palla non avete mai toccato una palla scusate scusate mettiamo a 100 km fino a 100 km lo buttiamo a 100 km sbagliato non ho tirato la palla fino a 100 km ecco la pallina la pallina attenzione la passa lui no 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 ok ma io ho paura che mi può no ma ripasso a lui poi a lui cosa succede allora vediamo un compagno ecco il compagno compagno tieni butta compagno tirano maledetti ma passiamo a lui lui che va nel difesa andate verso il nostro portiere perché il nostro portiere forte e vabbè lo sapevo pallina pallone da me pallina pallone ok è finito il primo tempo che non so cosa devo fare vai 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 passa 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 parliamo noi siamo appena a correre no 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 è un po' difficile guardare nella webcam per vedere perché io devo vedere vedere aiuto mi servo mi serve un 118 che mi viene da salvare e fuori dove la buttiamo vai la lì che l'abbiamo buttata lì ma vi piacciono questi scherzi dove imparate prendete questi scherzetti vai tira passa vai 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 schiora sfiva no mangiamo tutta la pasta passala passala grande no 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 non vi amo l'italia fa schifo ok l'italia non fa più schifo ok cos'è mia pazzo pazzo che va che vado no no ok vai la presa la presa adesso tirano dai ma dai ok lui che vario e corro prende la palla posso ripaso ecco che voluto fare così per vedere no non è fuori come si fa a fare un gol la tiriamo a lui la passiamo e no 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 con questo e attenzione che sto per farmi autogol aiuto aiuto paura l'italia ha paura andiamo di qua andiamo da questa sì 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 vai passala passala che i grandissimi siete i miei giocatori preferiti ah no ma da che sfida ok abbiamo vinto 1 1 ci credo 1 a 0 siamo contro la enda o non ci vuole giocare contro questa strada un po fortina dimmi chi è il mio compagno vai se trovo almeno un mio compagno ok compagno cosa ti metti lì subito 1 1 1 1 accareccio 1 a 0 subito un gol subito subito ok vai 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 è che la butto lui che va così oh mio dio oh my god what e goal what cosa vi sta succedendo in questo mondo presa presa l'ho presa l'ho presa non l'ho presa più nono cosa cosa è successo oh a pelli volete baciare e te baciamo la palla io volevo la palla po la palla io che la buttiamo l'ho buttata nel posto proprio giusto se trovo almeno mio compagno vai correte che vai grandissimo non prendi la palla non la prende non mi fa prendi la palla vai tira col 3 e si te l'ho fatto 4 3 3 3 3 3 3 a 0 guarda guarda l'italia ma l'italia ma l'italia almeno siamo noi per fortuna stiamo vincendo vedete qua sopra lì siamo 3 a 0 qua sopra lì sopra vedete in alto a sinistra c'è i punteggi che noi stiamo facendo no 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 l'ho fatto apposta presa vai vai dove sei calciatore calciatore dove sei e va vabbè 4 4 a 0 qua noi stiamo vincendo forza i tacchi no no è finito il primo tempo lo sapevo scusate va ma perché ragazzi vedete che si avvicina perché è colpa del computer basta avvicinarti basta lo so ho rotto il collo rotto le palle scusate se volevo dire avete rotto un po rompi scatole rompi scatole siete ma se non vedo il mio compagno vai corri di lì no così non ne vale i giocatori buttano male capito male vai 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 col 5 ma non ci credo ma chi è che mai che è arrivato in questo ponteggio o abbiamo pochi secondi vai questa cavolata questa cavolo di palla la passi ragazzi io non dico mai le parolacce non dico mai le parolacce anche lì no word to win please help 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 me vai la passiamo perché va avanti perché scarta questo e poi lui da solo per favore fa il sesto no no questo non ne vale no 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 la tiriamo lì no si ce l'abbiamo fatta abbiamo fatta porca meseggia abbiamo fatto ecco ok se ok ragazzi se il video vi è piaciuto lasciate un like per favore e ciao e ciao